Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, io sono Eliana Saracino e insieme a Nina Artioli e Alessandra e Gloria Lanza faccio parte dello studio TISPU. Mi associo ai ringraziamenti fatti prima da Isabella, Giulia e Claudio a tutti gli small per aver organizzato questo episodio che ci permette di essere tutti insieme allo stesso tavolo e a discutere di temi che in modi diversi, adattati ai diversi contesti sociali e culturali in cui ci troviamo a operare, ci mette comunque in un contesto comune. Da dove cominciare? Innanzitutto dal nostro nome TISPU, che è il cucchiaino da te, l'idea di uno strumento volutamente, esageratamente piccolo rispetto al campo di azione che si propone di indagare. Infatti la nostra mission, per quanto ambiziosa, consiste proprio nel voler indagare quei territori ibridi e incerti propri della città contemporanea. Territori in cui in qualche modo proviamo a fornire una visione alternativa di altri scenari possibili. Noi ci occupiamo di pianificazione urbana e paesaggio e molto spesso i nostri progetti si configurano come delle strategie, dei sistemi in cui si lasciano le maglie sufficientemente larghe per accogliere la possibilità di cambiamento e di trasformazione nel tempo. E nel nostro percorso professionale cerchiamo di raggiungere nei nostri progetti una sorta di equilibrio dinamico come in questa immagine di Calder in qualche modo ci racconta, un equilibrio dinamico che quindi ha la capacità di accogliere al suo interno la complessità del momento attuale in cui ci troviamo. Un momento, come è stato già detto, di crisi, di carenza di risorse, ma un momento anche in cui possiamo mettere in discussione le normali pratiche, le pratiche tradizionali, le pratiche consolidate per sperimentare e proporre nuovi scenari e nuove modalità d'azione sul territorio. E infatti il tema del riuso, il tema della valorizzazione delle risorse che sono presenti sul territorio in un determinato momento è un tema che affrontiamo in molti dei nostri progetti, a molte scale di intervento. Quindi da una scala urbana, anzi metropolitana, questo è un progetto commissionato dal Comune di Roma in cui proviamo a rileggere le grandi aree verdi disponibili ai lembi della città, non come zone da tutelare, vincolare e bloccare, ma come risorse attive per costruire uno sviluppo sostenibile della città e quindi vedendole come un territorio da non consumare. Teorie che poi abbiamo provato a riportare in questo video esposto al Padiglione Italia della scorsa biennale di Venezia, sulle tecniche di contenimento del consumo del suolo, arrivando ad una conclusione che gli episodi sporadici in qualche modo non potranno mai portare uno sviluppo coerente, ma serve una strategia globale che appunto preservi il territorio dallo spreco e dal consumo. Riuso che vuol dire alla scala dell'edificio ad esempio riportare un nuovo senso, un nuovo significato per luoghi che hanno smesso di averne uno per il tessuto urbano, quindi magari lavorando su nuovi immaginari possibili, su trasformazioni progressive che in qualche modo possono progressivamente entrare nell'immaginario degli abitanti. Rivalorizzare le risorse vuol dire anche partire da quello che realmente c'è sul territorio, quindi reintegrarlo, facendolo diventare l'elemento eccezionale di un territorio anonimo in qualche modo, ma che può trovare nelle risorse già presenti il motivo di eccezionalità e quindi riconoscere in quello che già c'è la propria identità territoriale che molto spesso viene dimenticata. Lavorare con le risorse presenti vuol dire ad una scala piccolissima, come in questo caso, lavorare proprio su quello che c'è in sito, quindi in questo caso ci avevano invitato a partecipare a questo evento nei giardini del Palazzo Reale di Monza, eravamo 12 studi invitati, noi siamo partite con un'idea che era quella di lavorare sul tema della tavola, della convivialità, dello stare insieme, ma non avevamo idea di che forma potesse prendere il nostro lavoro. Abbiamo lavorato con gli scarti degli altri 11 invitati, quindi abbiamo raccolto le casse in cui erano contenuti dei materiali preziosissimi, c'era Rota che aveva fatto arrivare dall'Africa del cotto preziosissimo, oppure Burghi che aveva fatto delle bellissime microserre in vetro e ferro e quindi tutto il loro materiale di scarto e di imballaggio noi l'abbiamo ripreso e costruito lì in situ questo piccolo spazio. Lavorare con le risorse esistenti vuol dire anche fare riferimento agli attori che realmente agiscono sul territorio, attori che in qualche modo possono essere coinvolti a diverse scale nel processo di trasformazione spaziale e che quindi devono essere assolutamente integrati nei processi trasformativi urbani. E infatti proprio per questo che abbiamo chiaramente in mente come nella città contemporanea ci sia un profondo distacco fra reali bisogni dei cittadini, offerta del mercato e pianificazione dall'alto. Un distacco che inevitabilmente genera un senso di non appropriazione, di non identificazione nel luogo. Di contro cosa c'è? C'è una sempre maggiore volontà da parte di una cittadinanza attiva di avere una rappresentazione reale nello spazio, quindi di agire concretamente sul territorio per trovare una propria rappresentazione di sé. E quindi in qualche modo sono i temi che rientrano in CityHound. CityHound è un social network per la trasformazione temporanea degli spazi urbani sottutilizzati. A differenza dei due casi precedenti che abbiamo visto, noi facciamo riferimento prevalentemente ad azioni molto piccole, in spazi aperti solitamente e soprattutto in spazi che sono fuori dal mercato, quindi che non hanno un interesse dal punto di vista del normale processo economico urbano e che quindi possono essere utilizzati per altri scopi. Parliamo di spazi di cui la città è piena, che è il problema da cui partiamo, quindi spazi sospesi, spazi tenui, come ognuno di noi definisce diversamente, quindi spazi che momentaneamente o permanentemente non sono integrati nel processo di sviluppo urbano. Spazi che in qualche modo ben si prestano rifunzionalizzazioni leggere, temporanee e molto economiche. Quindi CityHound parte proprio da questo, quindi dal momento di crisi economica che ci permette, come dicevo prima, di rischiare e di fare degli esperimenti alternativi, un momento di crisi economica che ci porta a lavorare su quello che c'è. È un momento di crisi in cui c'è uno scollamento fra lo spazio che è stato prodotto sostanzialmente dal movimento moderno, quindi uno spazio pubblico di un certo tipo, che non si è adeguato però ad un cambiamento della società, appunto nel suo passaggio dalla società industriale alla società dell'informazione. Intercetta questa grande disponibilità di spazi fuori dal mercato è la grande volontà, la sempre maggiore volontà di una partecipazione diretta della cittadinanza attiva a trasformare i propri spazi. Quindi il ruolo, quello è l'obiettivo di CityHound è quello di mettere in relazione appunto i proprietari degli spazi, siano essi privati o pubbliche amministrazioni che hanno appunto degli spazi da mettere a disposizione e soggetti che ne hanno bisogno per realizzare un'idea o un progetto. Di che trasformazioni stiamo parlando? Come appunto ci ha raccontato benissimo prima Isabella e Giulia, trasformazioni temporanee perché? Perché gli spazi potranno rientrare ad un certo punto del loro ciclo di vita nel normale processo di trasformazione urbana. Trasformazioni leggere proprio perché nascono con la consapevolezza di non avere una durata stabile nel tempo. Trasformazioni con un'iniziativa dal basso, quindi un'iniziativa creativa, orizzontale e molto spesso economiche perché fatte con pochi mezzi e basate molto sul lavoro diretto delle persone coinvolte nella trasformazione. Quindi per chi è CityHound, per i segugi che sono appunto le persone che cercano questi spazi e per i proprietari che hanno a disposizione lo spazio e che in questo momento lo usano e lo vogliono mettere a disposizione. I vantaggi sono per entrambi ovviamente. I più banali avere per i proprietari degli spazi che costano e quindi che cedendoli a certe condizioni possono in qualche modo azzerare le loro spese e più banalmente per i segugi avere accesso, avere una possibilità di realizzare un'idea con un basso costo di accesso. Tante piccole trasformazioni a livello, alla scala della città permettono un risultato più generale, un risultato più ampio di generale rigenerazione urbana. Come funziona? Ci si registra come utente, quindi in qualche modo descrivendo cosa si cerca, quindi definendo la propria immagine all'interno del social network oppure come spazio, quindi il proprietario descrive le caratteristiche dello spazio, magari vincolando certi tipi di usi, un certo tipo di tempo d'uso o altre caratteristiche. È fondamentale la costruzione della comunità in cui si mette in condivisione una community di saperi in qualche modo, quindi in cui si cerca di superare problematiche che sono comuni, in cui si cerca di mettere in campo anche le risorse disponibili. Cercare lo spazio, ovviamente secondo una serie di caratteristiche, trovarlo, contattare il proprietario e trasformarlo. È un'esemplificazione molto basica di quale dovrebbe essere il processo, ma sappiamo benissimo che tra il dire e il fare c'è un mare molto grande in mezzo. Infatti come verifichiamo noi sulla nostra pelle di progettisti urbani, in qualche modo è molto difficile poi mettere a sistema tutte le varie componenti della trasformazione spaziale, in termini di disponibilità di persone, di disponibilità di spazi, di strumenti che la pubblica amministrazione o dei privati possono mettere a disposizione per attivare queste trasformazioni. E quindi in qualche modo arrivando a dei benefici che si possono avere direttamente per le persone coinvolte e indirettamente per tutto l'ambiente urbano. Qual è il percorso che abbiamo fatto? Io mi sono occupata nella mia tesi di dottorato del riuso temporaneo degli spazi residuali, sempre vincolandolo agli spazi aperti e nel 2009 è stato bandito un concorso a Valencia per la riattivazione di tanti piccoli buchi urbani nel centro storico, in un quartiere che si stava svuotando progressivamente. Abbiamo partecipato, non ci hanno filato, però testardi, abbiamo convinto che l'idea fosse buona, l'anno dopo abbiamo partecipato a un altro premio a Roma adattandolo quindi all'ambiente romano e questa volta è andato meglio e in questo caso il progetto si chiamava Spacebook all'epoca, poi gli avvocati di Mark ci hanno consigliato, quelli che curano Facebook, la tutela legale di Facebook in Italia ci hanno consigliato di cambiare nome quindi noi ci siamo adeguate, non potevamo reggere una battaglia legale di quel genere e quindi in questo caso con un interesse diretto della provincia di Roma abbiamo cercato in qualche modo di fare dei passi avanti. Tutto il lavoro che è stato fatto al momento non ha avuto nessun tipo di supporto, nessun tipo di sovvenzione ma è basato sul lavoro di me e delle altre mie due socie quindi barri lento anche perché non è il nostro core business principale della nostra attività professionale quindi ci sono delle occasioni che ci capitano nel corso del tempo che in qualche modo ci permettono di fare dei passetti avanti. Al momento dove siamo, siamo che sarà online, speriamo giovedì questo sito, vi dico a breve perché. In questo percorso come vi dicevo abbiamo fatto un pochino di esperienze pratiche, di workshop, di lavori sul territorio molto spesso con l'università o con l'OIED quindi che ci permettono di fare dei piccoli test e ad esempio questo, ecco questo è il vecchio sito che non c'è più, abbiamo fatto quindi questo workshop con degli studenti cinesi, iracheni, americani, quindi un bel parterre misto di persone, abbiamo lavorato sul Pigneto che è un'area di Roma che per la sua conformazione morfologica e per la sua storia presenta numerosi di questi tipi di spazi che ci interessano. Infatti ecco qui alcuni, quindi dalla piazza totalmente deserta, inutilizzata, all'edificio semidiroccato, all'otto vuoto, al vicolo cieco, li abbiamo mappati, fotografati, descritti, non mi dilungo perché poi molti processi sono un po' simili per tutti e abbiamo giocato sulla questione vendesi, immaginasi, proponendo per quegli spazi delle cose anche surreali, assolutamente provocatorie, lontane da qualsiasi realizzabilità, però che potessero stimolare e mettere un dubbio nella cittadinanza di possibili alternative nella trasformazione dello spazio, dalla parete che può diventare una superficie per fare degli sport, il lotto vuoto come cinema, questa è una cassetta per infilare un contatore non più realizzato, poi può diventare una cassetta per il book sharing o una parete anonima, una sorta di bacheca urbana. Abbiamo fatto una piccola installazione, un gioco sostanzialmente a chiusura del laboratorio, ci siamo aggirati per il pigneto con il puntatore tridimensionale grosso e rosa, vi giuro che si faceva notare e aggirandoci per il pigneto ovviamente la curiosità delle persone facilmente era stimolabile e quindi da una prima diffidenza iniziale, chi siete, che volete e spiegandogli in qualche modo l'intento provocatorio quindi di instillare un dubbio nella loro mente, effettivamente le risposte erano, oh ma sapete che ci avete ragione, si può fare, quindi ci voleva un attimo poi a far partire un dubbio nelle persone anche di cose banali e quindi abbiamo appeso gli immaginasi nei punti, nei luoghi che erano stati mappati e poi il puntatore si è mostrato molto utile come scala, come tavolo, come sedia, insomma ha avuto molti usi nel corso del pomeriggio. Adesso dove siamo? Giovedì inauguriamo questa mostra all'acquario romano che è la sede dell'ordine degli architetti, una mostra in cui proponiamo la nostra visione di spazio pubblico e diciamo che sulla linea guida di City Hound che è appunto il nostro social network abbiamo provato a dare una serie di aggettivazioni di caratteristiche che secondo noi uno spazio pubblico contemporaneo dovrebbe avere. L'occasione della mostra, anche questa totalmente gratuita, ci ha permesso però nuovamente di stimolarci a fare dei passi avanti nel lavoro e quindi dovrebbe essere andare online il nuovo sito giovedì, speriamo, e quindi riconfigurare un attimo alcune questioni concettuali più generali. Quindi per chi fosse a Roma vi aspettiamo con gioia giovedì pomeriggio all'acquario. Grazie. Salve a tutti, io sono Christian Costa del progetto Spazi Docili basato a Firenze. È un progetto che coinvolge due persone, me e Fabrizio Aiello. Prima di tutto dico che non è un progetto di architettura, è un progetto di arte pubblica e di intervento sul territorio, infatti vedrete che abbiamo un approccio radicalmente diverso da tutte le questioni che sono state mostrate fino ad adesso. Siamo io e Fabrizio abbiamo esperienza appunto di arte pubblica e di intervento sul territorio da più di dieci anni. Abbiamo progetti a lunga scadenza in varie città europee, bene o male insomma siamo concentrati in varie città da Danzica, in Polonia, a Varsavia, a Wrocław, a Breslavia, piuttosto che nell'area inglese, perciò a Birmingham, Manchester, Liverpool, piuttosto che a Praga, in Repubblica Ceca, perciò bene o male sono un'area che è città, diciamo, industriale o post-industriale, anche se non solo. E come dicevo, il nostro è un progetto di arte pubblica, per chi insomma forse magari non si rende conto bene cosa vuol dire. Arte pubblica evidentemente è l'arte in un contesto pubblico e questa banalissima affermazione evidentemente implica la definizione di cosa sia pubblico, che secondo noi è un punto centrale come artisti, come architetti e in generale oggi è una questione essenziale, è uno dei punti intorno ai cui ci muoviamo. Abbiamo scelto di basarci a Firenze perché come vedrete Firenze essenzialmente è un brand, è un qualcosa di noto in tutto il mondo, tutti conoscono Firenze bene o male e tutti quanti hanno un'immaginazione di Firenze che di solito è sbagliatissima, insomma, perché ci immaginiamo qualcosa a metà tra il Rinascimento, il David, è qualche cosa di bellissimo, mentre invece è un posto terrificante. Di quali aree ci occupiamo? Diciamo noi siamo due persone, appunto due artisti che svolgono talvolta anche il ruolo dei curatori, intorno a cui gira una costellazione di studenti, architetti, critici, politici e quant'altro, attivisti, persone comuni e quant'altro e cerchiamo di coprire tutta la città, cosa che è veramente difficile, insomma, evidentemente in due persone e abbiamo lavorato e ricevuto, cerchiamo di coprire tutta la città, perciò dalle aree nuove, le aree nuovissime, le aree più o meno, come dire, industriali, post-industriali, piuttosto che il centro storico e quant'altro. Per capire bene cosa facciamo, diciamo, forse dovrei spiegare un attimo cosa vuol dire il nostro nome, spazi docili. Evidentemente è una ripresa da Michel Foucault, come forse qualcuno saprà, lui in Sorvegliare e Punire teoretizza l'idea dei corpi docili, cioè essenzialmente la modernità inizia quando il potere si rende conto che il corpo degli uomini è utilizzabile come risorsa economica, perciò la gente smette di essere suddito e diventa risorsa economica, da cui poi nasce evidentemente la rivoluzione industriale e quant'altro. Abbiamo provato a trasporre tutta questa concezione di Foucault dai corpi agli spazi e purtroppo funziona benissimo, è un modello che è assolutamente funzionante, in cui essenzialmente il motore è il politico, cioè il potere, cioè la classe politica, burocratica e amministrativa, che ne fa di tutti i colori e prende degli spazi che più o meno sono quelli di cui abbiamo parlato e parleremo, li riqualifica in senso negativo, cioè essenzialmente li svuota di identità, li rende per l'appunto docili, cioè docili alla visione politica che loro hanno e ci mettono dentro delle funzioni assolutamente insensate, per fini che sono politici e noi cerchiamo di analizzare questo livello per estrarre dei modelli di comprensione di perché certe aree rimangono in una certa condizione e di conseguenza, come dire, per noi la mappatura non basta, come avete sentito tutti quanti questi progetti mappano come anche noi mappiamo il territorio, secondo noi questo è assolutamente insufficiente perché ci sono in giro del mondo una quantità abnorme di progetti che mappano il territorio senza poi spiegare perché questi luoghi sono in quelle condizioni, che è la cosa più interessante alla fine. Di conseguenza noi ci interessiamo di luoghi che possono essere cimiteri, musei, luoghi nuovissimi, luoghi costosissimi, rinnovati piuttosto che aree postindustriali, è una costellazione di luoghi. In questo caso vorrei farvi vedere uno che spiega bene il nostro approccio perché la comprensione delle dinamiche politiche è essenziale per cercare di entrare poi in questi luoghi e farci qualcosa, perciò mi concentrerò sull'area di Sant'Orsola a Firenze che è un pezzettino della nostra attività sul territorio, perciò diciamo questo è un modello, a noi interessa estrarre modelli funzionali essenzialmente. Sant'Orsola è un complesso monastico fondato nel 1309, per chi non lo conosce tranquillizzatevi spesso neanche i fiorentini lo conoscono, non è chissà dove ma è nel centro di Firenze, è praticamente a 20 metri, 50 metri da San Lorenzo con le tombe medice di Michelangelo e a meno di 100 metri dal Duomo, perciò il centro del centro del centro di Firenze è quartiere 1, è un luogo che potete immaginare come il classico complesso monastico con la chiesa, i corpi con il refettorio piuttosto che i vari ambienti, delle corti e il classico chiostro rinascimentale, perciò un quadrato con dei portici e il giardino al centro. Fondato nel 1309, ho avuto una lunga storia che ora vi sintetizzo essenzialmente nel fatto che dall'Ottocento, cioè da quando c'è stata la conquista borbonica dell'Italia, questo luogo ha cominciato a svolgere una marea di altre funzioni, è diventato maneggio, scuola di cavalli, gli sfollati della seconda vera mondiale, c'è stata l'università, c'è stata una manifattura tabacchi e quant'altro, finché all'inizio degli anni 80 è stato, come spesso accade, dato alla guardia di finanza e è diventato un'installazione. Nel senso, come vedrete, questo è un luogo esemplare per capire come il potere usa i linguaggi estetici per dei propri fini e come il potere ha inevitabilmente un portato estetico, che sarebbe Rancière, per chi vuole approfondire la lettura, diciamo così. Rancière, Jacques Rancière, è un filosofo contemporaneo che appunto parla dei rapporti tra estetica e politica e lui essenzialmente dimostra in maniera assolutamente chiarissima quanto politica e estetica sono le due facce della stessa medaglia, perché la politica usa il linguaggio estetici per i propri fini e l'estetica ha dei fini politici, perciò come dire, non interessa la figura dell'artista come una persona un po' svagata che fa delle cose divertenti, tanto graziose, ma poi non serve a niente e lo mettiamo da parte, anzi è il contrario, noi cerchiamo di adoperare la forza che i linguaggi estetici hanno nell'esistente, cioè non c'è nessun linguaggio più forte di quelli estetici. Infatti noi stiamo tutto il tempo con i cellulari in mano a fare video, a scrivere testi, i politici usano il video, usano il cinema, usano la fotografia, usano la parola, sono tutti medium e sono medium estetici, perché hanno una grammatica estetica. In conseguenza, come dire, se noi ci facciamo dire cosa dobbiamo fare da degli analfabeti significa che noi rifutiamo, come dire, rinunciamo all'uso del medium parola per cederlo a degli analfabeti. Se noi rinunciamo all'uso del medium video ci sorbiamo con gli orribili filmetti promozionali piuttosto che elettorali con cui loro ci bombardano. Sono tattiche di difesa estetica, mettiamola così. Dicevo, negli anni 80 questo edificio viene affidato alla Guardia di Finanza per diventare una caserma della Guardia di Finanza. E appunto, come spesso succede in Italia, questa situazione parte per la tangente. Essenzialmente la Guardia di Finanza in pochi mesi distrugge totalmente questo edificio e poi lo lascia, perché ovviamente non gli andava più bene. E questo edificio sarà chiuso per 30 anni, diventando nel centro di Firenze area di spaccio, di prostituzione, attirando tutta una serie di problemi e facendo imbufalire la popolazione locale, che sono 30 anni, che sono incavolati neri praticamente. Questo che vedete qui è l'esterno. Questa cosa divertente è un muro costruito intorno al complesso per chiuderlo e renderlo inaccessibile e invisibile. Queste finestre tipo di tre metri e mezzo sono state murate e questo tutto il complesso è, ripeto, invisibile e inaccessibile, ritinteggiato ogni tanto per fare in maniera che scompaia dal tessuto urbano. Cioè noi spesso, quando ci portiamo le persone, ci girano due o tre volte intorno finché la gente si rende conto che sta girando a vuoto, gli facciamo notare che loro non li vedono questi spazi, perché sono invisibili. Il dentro è abbastanza interessante, perché come vi dicevo, la Guardia di Finanza in pochi mesi ha devastato questo edificio, un edificio medievale affrescato, gli affreschi sono stati stuccati, gli archi sono stati squadrati, un edificio medievale perciò tutto quanto legno e pietra, evidentemente sostituiti da ferro e acciaio e cemento, nella corte centrale, che è questo, hanno fatto un parcheggio interrato di quattro piani, sotterraneo, aperto, tuttora aperto, in cui piove dentro, e infatti, come vi farò vedere fra un attimo, sotto c'è una specie di lago, è tuttora così, io ci sono andato in estate e si sentiva clic 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 le gocce che cadevano, una cosa abbastanza interessante. Nelle altre corti c'è un bosco, praticamente, e, ripeto, questo luogo è inaccessibile, è stato inaccessibile per 30 anni, queste foto sono state realizzate circa una decina d'anni fa dalla nostra collaboratrice, e sono le uniche foto esistenti prima di quelle che abbiamo realizzato noi nell'ultimo periodo, perché ovviamente appunto il potere si, diciamo così, vergogna di questo tipo di fallimenti, come potete vedere, questi sono uno degli interni, questi sono appunto quello che rimane della struttura, il tetto collassato ovviamente a pezzi, nei giardini appunto ci sono tutti, ci sono degli alberi, alla fine alberi di 30 anni, ripeto, questo è il centro di Firenze, non è periferia in alcuna maniera, come potete vedere sono alla fine solo i muri, i pavimenti talvolta ci sono, talvolta no, il tetti spesso non ci sono proprio, tutto squadrato, ricentimificato, ripeto, per me questa è un'installazione, perché alla fine, come dire, ricoprire completamente di cemento una struttura medievale, evidentemente supera l'incompetenza politica, architettonica o economica, ma è un uso inconsapevole, il rozzo ovviamente, dei linguaggi estetici, perché questa è una scultura, se non la trattiamo come scultura, capiamo quanto queste persone sono inadeguate, mettiamola così, questo è appunto un simbolo per far vedere tutto in acciaio, cambiato tutto in acciaio, tutti i perni in acciaio, e appunto questa è la corte centrale, infatti se andate su Google Maps, essenzialmente è un quadratino con un buco nero al centro, c'è anche molto pittorisco da vedere, come noi abbiamo cercato di approcciare un luogo del genere, che ripeto, era inaccessibile, queste foto sono state realizzate per caso, perché questo edificio è stato aperto per qualche giorno, per qualche ora, e tutta la gente intorno del quartiere, che ha visto la propria area degradare in maniera incredibile, protestando nel corso degli anni, non aveva alcuna possibilità di entrare dentro, né di capire cosa stava succedendo, e tuttora non ce l'ha in verità. Quando noi, nel 2008, quando abbiamo iniziato questo progetto, siamo venuti a conoscenza di questo luogo, abbiamo incominciato prima di tutto a cercare di capire su un lungo periodo temporale come mai fosse successa questa cosa. Per esempio, la cosa che sto per dirvi l'ho scoperta circa un anno fa, che è uno dei punti essenziali, gli domanderete, ok, la Guardia di Firenze ha avuto la possibilità di fare questa cosa, ma perché la soprintendenza non gli ha detto niente, perché nessuno non è intervenuto? La risposta, che io francamente non conoscevo, è che in Italia i corpi armati possono fare qualunque cosa di qualunque edificio, perciò se entrano dentro la Sistina, vabbè, la Sistina è un altro paese, però se entrano nel Duomo di Firenze e vogliono trasformarlo, in un supermercato lo possono fare, non devono rendere conto a nessuno, e queste sono le conseguenze. E ripeto, se uno queste cose le guarda solo dal punto di vista funzionale, architettonico, economico, si perde un pezzo fondamentale, cioè la comprensione del perché queste cose succedono, infatti ci arriveremo fra un attimo. Come noi abbiamo provato a intervenire? Noi siamo appunto un progetto di arte pubblica, di arte di stampo relazionale, a noi interessa parlare con la signora nel vicolo, capire la gente come vive, approcciarsi con le persone che vivono nei luoghi, cerchiamo di rivolgerci alle persone che non vanno nei musei, che non vanno nelle gallerie, che non fanno parte del sistema dell'arte, insomma, che ha tutta una lunga tradizione di exploitment, diciamo così, proprio di sfruttamento in senso negativo di questi luoghi, che diventano poi alla fine bei progetti fotografici, belle mostre, belle cose rassicuranti, che non hanno poi alcun impatto sociale di nessun tipo. Abbiamo pensato di realizzare la statua di Sant'Orsola, prendendo essenzialmente il toponimo, perché il suo luogo evidentemente si chiama Sant'Orsola, non c'è alcun tipo di culto o niente di che è legato a questa figura, semplicemente abbiamo pensato, ok, questo è il nome, usiamolo, abbiamo incominciato a spiegare questa cosa al quartiere, abbiamo chiesto alla gente del quartiere di darci materiali, e tutti quanti, capendo cosa volevano fare, hanno addirittura un enorme entusiasmo, per esempio questa è una signora che ci ha dato dei tessuti, questa è una commerciante del mercato di San Lorenzo, che è davanti, praticamente a dieci metri da questa chiesa, che vende guanti e di consenza ci ha dato le mani, in legno, altri ci hanno dato, che non so, delle teste, delle altre cose, alla fine abbiamo raccolto tutta questa serie di materiali eterogenei, e ci siamo messi in piazza San Lorenzo, dove sta il mercato, a montare questi elementi tutti quanti insieme, per vedere un po' di costruire questa santa, e è successa l'ira di Dio, perché è venuta una marea di gente, ha detto, ah ma vabbè, ma lo facciamo noi, così è più bello, alla fine noi essenzialmente abbiamo fatto partire questa cosa, se la sono costruita da loro, come vedrete non è un oggetto classicamente bello, insomma, è qualcosa di misso tra il feticcio, e come dire, una cosa popolare, diciamo così, però chiunque conosca il meridione d'Italia, un'area mediterranea, come sono nate le rappresentazioni dei santi, eccetera, spesso nelle nostre chiese troviamo statue simili, realizzate nei secoli scorsi, con dinamiche simili, cioè se le costruiscono loro, se le rappresentano loro, e sono loro che vogliono gestire, cioè le persone del quartiere, vogliono gestire la propria rappresentazione, è andata infatti esattamente così, perché è venuta una marea di gente, che hanno cominciato a salutarci, a chiedere cosa vogliamo fare, questo è sempre interessante come foto, forse qua è un po' scuro, si vede poco, mentre noi montavamo questa statua, in tutte le finestre c'è gente affacciata, e guarda, ma questi che stanno facendo, che caspita stanno combinando, perciò c'era un'enorme curiosità, tant'è che quando poi ci siamo messi però alla concludere questa statua, alla fine appunto, questo è un disoccupato, passava alla gira, ha detto, ah che bello, sì sì, lo facciamo insieme, lo montiamo insieme e così via, è nata questa statua, e come dire, in questo momento è subentrata la cultura locale mia, come di Fabrizio, che Fabrizio è palermitano, toscano, io sono per metà polacco, per metà napoletano, e noi siamo abituati all'idea della processione, insomma qualcosa che fa parte della nostra vita, a Napoli ogni doverica mattina passa qualcuno in processione, in continuazione, per me, per me, per me, ci sta qualcuno che fa col santo, il gagliardetto che fa qualcosa, insomma addirittura un po' stancante, insomma mettiamola così, mentre invece il centro nord Italia, che evidentemente conosce, oserei dire, il medium processione, però è qualcosa che non fa particolarmente parte della loro vita, di conseguenza era una cosa vagamente esotica, e abbiamo deciso di portare questo feticcio, perché alla fine quello era, in processione, aprite cielo e è successa l'ira di Dio, tutta la gente del quartiere che si chiamava per venirci dietro, le nonnine che si inginocchiavano per terra, la gente che c'è il segno della croce, il padre nostro, una fila di gente senza fina che ha raccolto tutto quanto il quartiere, il giorno dopo, questa cosa è uscita su tutti i giornali di Firenze, ne parlano ancora, e l'effetto era esattamente questo, evidentemente a noi non interessava, come dire, prendere in giro un aspetto religioso, insomma, non è proprio questo il punto, il punto è usare, diciamo così, un medium di ambito religioso, o comunque sacro, forse sacro è il termine più adatto, riconfigurarlo e far diventare un medium politico, sociale, e ha funzionato, perché appunto, da allora, per forza, l'amministrazione, tutta la gente ha dovuto, ha ricominciato a parlare di Sant'Orsola, perciò la gente è il quartiere, dopo 30 anni in cui non se li filava nessuno, perché questo è un posto che non so che cosa ci si possa neanche fare, probabilmente sarebbe meglio abbatterlo e farci una piscina, non lo so, perché è veramente difficile da recuperare, di conseguenza è rimosso, e come si fa a Firenze, si tinteggia, si rende inaccessibile, perciò sono dinamiche del potere, e di conseguenza non esiste, perché tanto c'è la piazza con il David, c'è gli uffizi, chi se ne frega che c'è Sant'Orsola. Perciò la cosa interessante, questo è un cardine della nostra modalità di lavoro sul territorio, il lavoro con i comitati, di solito, come pongo molti di voi, sapranno, quando bisogna fare, si vuole fare qualcosa in un luogo, si cerca di trovare dei contatti sul luogo, perciò si va a rompere le scatole a qualche comitato, e la gente solo dice, ma questi che vogliono, chi sono, perché ci rompono le scatole, noi abbiamo altro a cui pensare, e si cerca di costruire nel lungo tempo, insomma, un certo tipo di rapporto che talvolta riesce, talvolta no, e questa è una dinamica in cui essenzialmente, come dire, i soggetti culturali cercano di usare i comitati e la gente del territorio per i propri fini. Per noi questo è un modello sbagliato, che va assolutamente rovesciato. Noi, in particolare, il buon Fabrizio che vive a Firenze, io, diciamo, curo il rapporto tra Firenze e il resto del mondo, ci siamo divisi il mondo così, lui si è preso Firenze, io mi sono preso il resto del mondo, mettiamola così, lui si fa ogni settimana l'incontro con il comitato del Meccano Tessere, più costo di Sant'Orso, piuttosto di questo, questo vuol dire perdere una marea di tempo a sentire la nonnina che ti dice che gli piove nel palazzo, l'altra persona e dire che c'è un buco per terra, tutta una serie di questioni forse poco interessanti, insomma, per un artista o anche per chi vorreste intervenire, però questo crea dei rapporti reali con le persone e di conseguenza loro poi ci vedono come dei partner reali, come delle persone che, come dire, io pretendo che tutta la popolazione che non si interessa di arte contemporanea capisca che cos'è l'arte contemporanea perché spesso non lo capiscono anche gli operatori, però già incominciare a capire questo tipo di interventi come comunicazione, già va bene, infatti l'esito è che di solito sono gli artisti o gli organizzatori culturali che vanno a rompere le scatole ai comitati per fare qualcosa, per noi è il contrario, loro ci telefonano in continuazione, cioè quando facciamo un'altra installazione, quando facciamo un'altra cosa, quando venite a fare qualcosa, perché abbiamo ribaltato questo rapporto e cerchiamo di essere presenti tutto l'anno, tutto il tempo e di conseguenza poi viene naturale per loro proporci qualcosa, qualche tipo di intervento quando hanno delle esigenze. Per far capire, questa statua è in tournée, io non so neanche dove sta in questo momento, se la sono presa loro e gira tutti i locali intorno Sant'Orsola e loro se la mettono nei negozi e la espongono come segno di identità, l'hanno accettata come segno di identità, per loro rappresenta loro stessi e gira, ripeto, in tournée da qualche parte sta l'anno. Per farvi capire come questi luoghi sono appunto, come si unisce la visione che il potere ha di questi luoghi e come questa visione ha dei portati estetici fortissimi, vi faccio vedere come il Comune di Firenze ha deciso di aprire questo luogo per un pomeriggio, nell'ambito di una manifestazione si chiama i cento luoghi su cui ci sarebbe tanto da dire che è abbastanza interessante. Ebbene, tre anni fa hanno deciso di aprire per mezza giornata questo luogo e farlo vedere finalmente alla gente del quartiere. Questa è la maniera nella quale l'amministrazione ha estetizzato un disastro del genere, ha messo il giglio glorioso di Firenze a fianco una cosa del genere. Questi erano gli abbellimenti, cioè delle bandierine di plastica fetentissime, insomma, veramente povere, attaccate con qualcosa del genere anche. Questo è fenomenale, questo è proprio in rimozione allo stato puro, questo è l'uso dei linguaggi estetici per l'appunto. Io uso un filtro estetico, cioè ti metto qualcosa che è veramente tipo il leccalecca da dare al bambino, perché nell'illusione o nel pensiero che tu non vedi quello che c'è dietro. Perciò questo è un sottile gioco estetico, non conscio evidentemente, che però ti fa capire come ragiona l'amministrazione. Questi sono altri abbellimenti, perciò sentitevi pieni di bellezza. Quando poi, appunto, la gente, la cosa interessante è che quando hanno aperto questo luogo, la gente del quartiere ha preso questa statua, l'hanno portata di forza dentro l'edificio, l'hanno messa in questa nicchia e hanno detto questo è stato il simbolo della nostra lotta, del nostro luogo, così, deve stare qua, non vi azzardate a toccarli, e tutto, per un certo periodo di tempo è stata là, nella struttura di cui, come dire, portava il nome, con la gente, ovviamente in questa occasione si è fatto un bel po' di foto, e questo è appunto quello che vi dicevo, queste sono le due persone più potenti della Toscana, Renzi suppongo e lo sapete chi è, l'altro è Barducci che è il presidente della provincia, che cosa vuol dire? Vuol dire il potere che accetta delle rappresentazioni dal basso perché gli fa comodo, questo per esempio c'è tutto il versante su cui discutere del concetto di partecipazione, che come dicevamo prima, insomma, appunto stamattina, prima che iniziasse appunto questo meeting, è il punto di contatto tra il sistema dell'arte e il sistema politico, perché la politica fa un gran parlare di partecipazione, ma si guarda bene da realizzarla effettivamente, perché è uno strumento pericoloso, ingestibile, lungo e fastidioso, perché poi la gente vuole le cose, non gli puoi dire che cosa devono fare, e allo stesso modo nel sistema dell'arte, che ha una retorica enorme di interventi in cui si dice che si fa con la gente del territorio, del quartiere, che bello, siamo tutti quanti insieme, ma poi non è vero niente, o perché sono progetti brevi, o perché alla fine gli artisti non gliene frega un bel niente di stare a sentire la gente che cosa vuole, perciò c'è tutta una retorica della partecipazione su cui ci sarebbe tanto da dire, ma il punto è che i due più importanti, voi vi immaginate il sindaco di New York o che ne so, io di Londra e fa una cosa del genere, io francamente ho un po' di difficoltà, insomma. Questo, per farvi capire come il potere, ripeto, uso questo termine furtiano perché non lo vorrei personalizzare su Renzi, lui è uno strumento, non lo rendiamo soggetto, che non mi sembra il caso, come il potere cerca di adoperare queste spinte di identità, di rappresentazione per dei propri fini. Questa è un'altra cosa fenomenale, per capire come l'amministrazione si spende per luoghi come Sant'Orsola. Dovete sapere che a quanto pare dentro il monasterio di Sant'Orsola è morta la Mona Lisa, la persona che avrebbe fatto da modello per il dipinto di Leonardo, di conseguenza come l'amministrazione di Firenze ha fatto i buchi affreschi per cercare dietro la battaglia di Anghiari, come si sono inventate tutta una serie di ricerche fantasiosissime sul muro sbagliato per di più, essenzialmente per usare i linguaggi estetici a fini politici, perché se un politico vuole uscire su tutti i giornali mondiali pur spendendo una quantità abnorme di soldi in comunicazione non è detto che gli riesca perché la comunicazione è una cosa complessa e talvolta non riesce, se spari il nome di Michelangelo Leonardo Caravaggio esci gratis su tutti i giornali del mondo e di conseguenza questo vi fa capire come il potere dovreste intuire a chi faccio riferimento in questo caso appunto personalizzando questo riferimento come il potere a Firenze cerca di adoperare questo enorme patrimonio artistico il brand Firenze per accreditare la propria carriera politica e di conseguenza cercare di come dire di diventare presidente del consiglio mettiamola così hanno cercato le ossa di Sant'Orsola di della Mona Lisa queste sono alcune foto di come funzionava questa cosa nota bene evidentemente le ossa della Mona Lisa non servono a niente sono un feticcio che non serve a niente né agli storici dell'arte né a nessuno essenzialmente è uno strumento perciò linguaggio estetico uno strumento per uscire sui media internazionali è come il potere immagina i luoghi e la cultura per finalità politiche economiche perché sono soldi non sono chiacchiere bellezze come dire cose piacevoli nota bene in questo luogo questo luogo questo cantiere era inaccessibile c'era la gente il quartiere incavolata da decenni perché non riusciva a entrare dentro Sant'Orsola non poteva entrare dentro a vedere quest'opera di scavo però se eri un giornalista sì noi abbiamo andato con una macchina fotografia grande siete giornalisti sì e ci hanno fatto entrare così funziona c'è una televisione da tutto il mondo immagini della Mona Lisa sparse con la palla da tutte le parti e funzionava per farvi capire anche questo è uso di linguaggio estetico perché è una rappresentazione teatrale o metateatrale se volete della gente che spicconava della sabbia e uno mamma mia prendeva cosa non si sa questa era una sacra rappresentazione perciò ripeto uso dei linguaggi estetici e funzionava così non lo so in attesa che uscisse non lo so uno zombie oppure che ne so gli UFO prego quanti sì sì vabbè questo è ovvio perché questa è una liturgia io ora vado veloce però se ci mettiamo a analizzare tutti gli elementi sembra quasi una scena caravaggesca insomma in certo senso la cosa interessante appunto vedete poi c'è tutto un meccanismo di visione lo sguardo ci sarebbe tanto da dire questo era il cantiere l'abbiamo fotografato quando è finito questo è quello che loro cercavano e ora vedrete cosa hanno trovato di conseguenza forse le ossa della Mona Lisa non le abbiamo trovata però le ossa di quello che ha mangiato la Mona Lisa forse sì insomma oltre alla marca di sigarette preferite alla Mona Lisa probabilmente infine vi faccio vedere delle foto di come questo luogo è fatto circa un annetto fa tutto acciaio ferro tutto squadrato i tetti continuano ad esserci questo è quello che vi dicevo spero che si veda questa è acqua questi sono i quattro livelli nella corte perciò continua ad essere esattamente come ve l'ho fatto vedere e questo appunto è una nuova sacra rappresentazione per farvi capire come appunto si usano queste come la politica appunto usa questi linguaggi estetici per cercare delle cose da rivendersi poi sul mercato della comunicazione questo in un altro momento perché sono e sono fotografie fatte in un altro momento rispetto a quello che abbiamo visto prima è un teatrino messo ad uso e consumo dei media cioè c'erano due archeologi che così stavano là e più o meno spennellavano il nulla perché non c'era niente a spennellare perché qua c'è una come dire una tomba con i resti di un poveraccio insomma che sperava di riposare insomma evidentemente non è possibile e loro fingevano di lavorare essenzialmente spennellavano così per permettere ai reporter di fare foto del cantiere cioè l'intento di questa sacra quest'altra sacra rappresentazione era di permettere ai media internazionali di sparare su tutto il mondo in tutti i media mondiali delle rappresentazioni in cui si vede ah che bello stiamo trovando Leonardo forse troviamo pure Michelangelo magari che ne so presto ci troviamo pure qualcun altro ancora per fini che sono politici e ripeto è anche un incasso economico non vedetela come come dire una cosa meramente culturale neanche per sogno questi sono alcuni momenti di un'attività su un luogo noi su questo luogo ci lavoriamo da anni continuiamo a lavorarci per esempio adesso abbiamo fatto partire un progetto in cui vogliamo realizzare il manto per la per la stato di Sant'Ursola perciò sarà un manto rettangolare tipo predella medievale con dieci scene fatte a ricamo dalle persone del dalle signore del quartiere con scene più o meno fantasiose tipo che ne so Lorenzo che compare nel cielo piuttosto che che ne so un bambino che sta affogando che vede l'immagine non affoga più cose di questo tipo perciò è un lavoro che continuiamo nel tempo e vorrei concludere ripeto questo è solo una parte delle cose che abbiamo fatto a Sant'Ursola e Sant'Ursola è un momento di tutta una serie di luoghi diciamo a me premeva far vedere un modello venendo alla conclusione cosa fare di un luogo del genere perché evidentemente noi qua parliamo di diuso cosa si farebbe di un luogo del genere che ripeto è questo qua ce lo dice come l'amministrazione fiorentina ha rinnovato luoghi simili essenzialmente quello che va per la maggiore è il come dire il locale multifunzione che è una piaga terribile insomma toscana ma forse anche in parte internazionale solo in certi luoghi riesce perciò per esempio c'è il complesso delle morate in cui c'è edilizia popolare il bar il cerchio di farci un festival cinema però da fastidio ai residenti di conseguenza non possono mettere l'audio c'è il ristorante c'è un'area espositiva che funziona e non funziona ci sono delle celle trasformate in botteghe che sono cinque anni e non riescono a darle a qualcuno c'è una multiforme quantità di funzioni assolutamente eterogenee tra di loro non coordinate e insensate che vengono schiaffate dentro questi luoghi e questo secondo me semmai faranno qualcosa di Sant'Orsola esattamente questo che faranno anche qua infatti tra i vari progetti ci volevano fare una piscina qua dentro non so bene dove ci volevano fare un asilo perché ovviamente i bambini su Piezze Corre di conseguenza se fichi bambino in un progetto vai sempre bene e questo immaginario è quello che come dire la classe politica riesce a concepire come dire con questi luoghi cercando di appunto di concludere come dire il nostro intervento che cosa può dare un progetto di questo tipo che evidentemente non è architettonico ma è artistico diciamo che noi in certo senso siamo il braccio armato del riuso diciamo così noi andiamo allo scontro totale però non per come dire per il desiderio di scontrarci che sia ben chiaro la cosa paradossale che quando tu incominci a manipolare i linguaggi estetici le dinamiche politico economiche sociali che usa il potere il potere drizza subito le orecchie e ti offre la qualunque infatti diciamo che nei primi sei mesi di progetto noi hanno offerto di partecipare a tutti i festival possibili e immaginabili di Firenze ci hanno invitato dappertutto e continuano a farlo per me non è un buon segno perché evidentemente è un tentativo di cooptazione insomma il punto è che penso tutti quanti i progetti di cui abbiamo sentito e sentiremo in questi due giorni hanno un problema essenziale di visibilità di coinvolgimento di partecipazione vera di capacità di far capire a tutta la cittadinanza che sta succedendo qualcosa e questo francamente se uno questo tipo di attività di fini li approccia solo attraverso i canali che sono quasi istituzionali perciò appunto l'intervento carino insomma vediamo che coinvolge un po' qualcuno il potere li vede come irrilevanti tende a dare pochi soldi quando gli conviene e in ogni caso spesso loro hanno il coltello alla parte del manico questo tipo di esperienze ripeto questa è solo una fa vedere che quando tu incominci a bastonarli usando meglio di loro i linguaggi loro non sanno usare quando li colpisci dove fa male cioè essenzialmente sul potere sulla rappresentazione su come loro si autorappresentano di conseguenza si fanno eleggere sui soldi perché alla fine di quello parliamo loro si attivano immediatamente e stranamente escono soldi che prima non c'erano in bilancio si propongono cose che prima non erano possibili perché perché c'è la crisi baby non si può e di conseguenza il mio invito è a cercare di inventare nuove strade anche molto politicamente scorrette perché funzionano ovviamente io non che sia ben chiaro a me non piace l'estetica del occupiamo per carità non piace l'estetica del contro a tutti i costi per carità la questione è un'altra la questione è capire perché questi luoghi sono in queste condizioni non limitarsi a censirli oppure a proporli in qualche maniera capire quali sono gli interessi che ci stanno dietro e vi garantisco che sono uscite storie allucinanti che vanno dal giudiziario a altri problemi e quando tu capisci queste dinamiche capisci come metterci mano e come attirare l'attenzione della classe polì del potere appunto e purtroppo loro reagiscono ripeto quello che io trovo deprimente è che poi alla fine in Italia la meritocrazia non esiste e di consenza se tu gli fai gli pesti calli loro si svegliano se sei un genio non ti si fila spesso nessuno insomma detto in maniera molto brutale anche spiacevole francamente perciò come dire noi siamo qui con piacere per se qualcuno necessita di corpi armati di intervento estetico noi ci siamo insomma siamo ben felici di esserci ovviamente non solo questo anche una proposta che d'essa anche intellettuale di lettura degli spazi di comprensione dei modelli economici di comprensione dei modelli politici deve andare insieme evidentemente grazie allora vi chiedo un ultimo come dire sforzo di concentrazione per l'intervento di Giacomo di ciclo stile architettura che ci fa vedere le sue cose poi andremo a pranzo buongiorno allora io sono Giacomo Beccari e cercherò di essere breve perché mi sta venendo fame allora e oggi non non faccio un intervento presentando un servizio come magari qualcuno di quelli che abbiamo ascoltato prima ho una società di architettura che si chiama ciclo stile architettura noi siamo architetti da quando praticamente c'è la crisi quindi siamo come voi architetti in tempo di crisi e per questo abbiamo pensato fin dall'inizio che era importante per noi cercare di rielaborare le necessità della società e del mercato per dare delle risposte efficienti appunto a queste necessità e abbiamo anche cercato e crediamo sia importante di capire come si evolverà come si sta evolvendo la figura dell'architetto un po' come ci ha detto Alessandro in introduzione di questa giornata allora come vi dicevo abbiamo usato un servizio perché appunto analizzando le criticità della società ci siamo resi conto del grosso problema dell'abbandono e ci siamo resi conto che è un tema molto importante applicato sia alla nostra città ma soprattutto a livello nazionale e quindi mi dispiace che non si veda molto ma abbiamo cominciato a raccogliere dei dati prima appunto partendo da un livello nazionale per poi concentrarci su quello più locale di Bologna e tutti questi dati questi numeri che abbiamo trovato ci hanno confermato che hanno confermato a noi architetti che in questo momento non è più necessario costruire no? Perfetto allora ci fanno ragionare su come deve cambiare la figura dell'architetto che magari non è più un costruttore di edilizia ma deve essere un costruttore di processi no? e abbiamo insomma da questo da questa riflessione sui dati nazionali ci siamo concentrati più nello specifico sull'esempio di Bologna abbiamo collaborato alla mappatura di di alcuni spazi abbandonati abbiamo preso tutti gli edifici che erano presenti sul nostro comune e e li abbiamo riproposti qua ce ne sono 35 riuscite a leggere qualcosa ex caserma ex area staveco ex birrificio e tutto ex ci sono caserme ci sono industrie ci sono spazi urbani ville ora di proprietà del comune ci sono delle scuole e praticamente ci siamo resi conto di come Bologna sia una città che sta mutando questo questo praticamente è il centro storico quello che vedete qua è proprio la cerchia delle mura medievali e quindi abbiamo visto come appunto Bologna sta cambiando come i suoi cittadini stanno cambiando e cambiano le necessità di spazi produttivi che magari prima erano molto vicini al centro storico poi la produzione si sposta e questi spazi rimangono vuoti abbiamo chiamato questo questo piccolo studio questo piccolo ragionamento Bologna Burden City dove la parola Burden significa fardello perché ci faceva piacere cercare di analizzare di capire quanto è grande il fardello che grava sulla città e quel cubo abbiamo realizzato un plastico perché l'abbiamo poi portato un po' in giro dopo ve lo racconto realizzare questo plastico è stato utile anche a noi per capire bene il dato di che cosa stavamo parlando quel cubo che grava sopra alla città e sopra tutti questi piccoli grattacieli che identificano gli spazi abbandonati presenti in città quel cubo è in proporzione il volume quindi i metri cubi di abbandono abbiamo cercato di intrecciare dei dati di incrociarli perché non ci sono dati effettivi e qualcosa abbiamo tirato fuori abbiamo tirato fuori tipo 600.000 metri quadri o 2 milioni di metri cubi di spazi vuoti o in disuso o sfitti a Bologna non poco direi vado avanti ecco questo oggi siamo un po' di fretta appunto doveva essere in realtà un momento un po' più ludico perché sarebbe stato bello non potendo e non avendo potuto portare in aereo il plastico avevo fatto sì ecco Elip fai una prova praticamente questo plastico aveva dei codici QR applicati sugli edifici abbandonati fotografando il codice QR c'era un rilancio al sito Impossible Living su cui erano mappate schedati tutti gli spazi abbandonati e questi sono i più interessanti di Bologna ora voi non vedete niente ma a noi è piaciuto molto fare questo esercizio perché abbiamo trovato nel codice QR un collegamento tra il reale e il virtuale cioè creando un plastico potevamo dare qualche informazione con l'iperlink e riuscivamo a dare molte più informazioni cioè riuscivamo appunto a sfruttare al meglio il servizio a cui ci eravamo appoggiati questo plastico questo piccolo lavoro evidentemente è stato un lavoro interessante l'abbiamo portato al fuorisalone a un evento appunto di impossible living li abbiamo sorpresi con questo lavoro per il quale loro sono stati necessari ma che appunto non si aspettavano l'abbiamo portato a un evento che è stato fatto a Bologna che si chiama Zisis Bologna e raccoglieva diverse realtà bolognesi che lavorano sul territorio e attualmente è ospite nel quartiere San Vitale dove la cittadinanza diciamo può andare a vederlo più che altro non sapevamo dove metterlo e poi che succede vado avanti e ci sono stati dei partner che ci hanno aiutati c'è stato sicuramente impossible living che ci ha dato l'opportunità ci ha dato i dati appunto per fare vedere questo problema c'è stato il piano strategico metropolitano di Bologna che è un processo che è nato l'anno scorso e che ci ha permesso di sederci appunto ad un tavolo nel quale le nostre richieste erano richieste di cui si è parlato anche prima cioè uno snellimento del processo edilizio per rendere fruibili in tempi molto brevi gli spazi in disuso e gli spazi abbandonati perché non ci si possono mettere troppi anni a utilizzare un edificio che in realtà andrebbe utilizzato immediatamente nei giorni nei mesi in cui lo si scopre abbandonato e poi dopo l'altro interesse che abbiamo l'altra proposta che abbiamo fatto al piano strategico appunto quello di una mappatura su Bologna che fosse ben fatta perché il comune comunque la pubblica amministrazione non ha chiaro il completo patrimonio abbandonato perché ogni ufficio attinge solo ai propri dati e non c'è una comunicazione istituto beni culturali e istituto nazionale urbanistica si sono interessati al tema per fare delle pubblicazioni o cose del genere e qui questi sono c'è qualche testata locale per far vedere come quando a un certo punto tiri fuori un tema scottante un tema interessante subito la stampa si lancia per dire che erano i due milioni di metri quadri che hanno dato sbagliato però è importante che se ne parli tante volte pur che se ne parli magari va bene anche se le cose che vengono dette non sono del tutto corrette come molte volte succede dopo due o tre giorni che queste cose erano uscite sui giornali poi vanno nel dimenticatoio e questo è un po' un peccato vanno nel dimenticatoio ma evidentemente qualcosa è rimasto questa è l'interfaccia dell'applicazione web che è stata lanciata dal comune di Bologna che appunto ha ascoltato un po' le cose che gli avevamo detto e gli avevamo proposto e poi ha lavorato in maniera completamente autonoma portando fuori un prodotto che non sto a giudicare però la cosa che mi dispiace è che magari non hanno approfittato del lavoro dei tanti lavori che erano già stati fatti cioè si sono messi con i loro uffici e con i loro tecnici a produrre il loro sito niente chiudo con questa prima pagina di una pubblicazione che adesso è uscita per la facoltà di ingegneria di Bologna che si chiama Burden City riuso creativo di pensieri materiali edifici e spazi praticamente noi con questa con questa idea di Burden City abbiamo cercato di alleggerire il fardello che si sta portando che si sta portando la città sulle spalle cioè abbiamo voluto in questo articolo abbiamo raccontato a posteriori tutte le esperienze che abbiamo fatto le esperienze di progettazione e abbiamo trovato un collegamento comune appunto che abbiamo chiamato Burden City in realtà il fardello può essere in alcuni casi di spazi in alcuni casi di materiali in altri in altri casi di pensieri che non sono diciamo quelli giusti era un'idea che portavamo avanti da tempo era un'idea che avevamo lanciato un paio di anni fa l'avevamo chiamata Smallness perché andando un po' contro la Bigness di Renkulas noi crediamo che abbiamo voluto credere che appunto riutilizzando in maniera intelligente i pensieri i materiali gli spazi ci può essere una progettazione sostenibile e una progettazione che si può fare anche in tempi di crisi finito dopo se volete le domande le facciamo quando andiamo a mangiare a mangiare Grazie.